certo ma c'è una zona defogliata a pagamento si intende guarda adesso un'altra cosa io non ho il trattore si cammina benissimo qui e soprattutto adesso con questa falciatura questa è stata defogliata sta bene ma la pianta stava cresce guarda che bello panorama da qui anche qui ho fatto defogliare e quindi il trattore è passato anche qui come ci sta una partita dopo i tambi l'ho fatta fresare questa no questo non so che cuba di te ma come c'è la seme